buongiorno amici del canale sono già seduta comoda cogliamo la palla al balzo per farvi vedere come lavorare su un intero mobile con la foglia argento e devo per forza di cose togliere l'astronatura è piena di bolle piena di escoriazioni piena di buchi non è più salvabile carteggio la superficie con una carta cento e la levigatrice stendo ovunque una bella base di giulia sgrei un grigio molto elegante ora passo linfa la mia missione mi aiuterà a far aderire benissimo la foglia argento io la stroppiccio un po in questo modo diventerà omogenea ma un po crackle metto un bellissimo transfer lo faccio sagomare per farlo diventare perfetto per il mio cassetto ovunque una bella passata di cera jasmine massaggiata con un bel tampone liscio e per finire la cera elegance che metterà in evidenza tutti gli strati della superficie a foglia argento guardate che spettacolo il nostro crackle scrivetemi nei commenti se vi è piaciuto questo è un mobile veramente glen ciao ciao